Lascerò questo video ragazzi sotto ogni video youtube come intro di ogni singolo video Vi lascio ragazzi qua sopra nei commenti il link al mio canale twitch perché tra un paio di mesi We are coming back baby E tu mi stai dicendo che questo figlio di puttana aveva il quinto valore di eltreggen più alto del gioco a libero Che è successo all'app? E' impazzito l'app Chiude la... La patch di Dappo! Quale patch? Pace dell'MSI La lista dei campioni che era uscita martedì mattina indicava anche buff per Ione, Viego e Gwen Ma... Buff... Buff a Ione? Cosa? No, 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 non guardo il video No, 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 no I... ragazzi, allora Per sbaglio due settimane fa ho fatto un complimento Dopo due settimane ragazzi Ho fatto un complimento su come stanno modificando i campioni tramite le patch Non quando è uscito Smolder bla 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 Vedo me era sbroccato ma lì è quello che fa uscire il campione che è un imbecille Per quanto riguarda le patch notes invece il cambio di meta, lo shift di meta che sto guardando A parte quando una roba sul plasma sony che avevo detto che mi stava altamente sui coglioni In generale le patch notes stanno funzionando Io non sto più giocando attivamente Ho rismesso una settimana fa Ma voglio un attimo capire com'è lo stato del game E penso che in una patch delle MSI che dovrebbe essere una patch abbastanza succosa si possa capire Ma sono stati eliminati dalla lista finale che andiamo ad analizzare oggi Prima di partire vi ricordo che questa patch è principalmente mirata al competitivo Quindi se non vedete tanti bilanciamenti per Aaaaaah Patch mirata al competitivo Riot ha parlato Riot ha parlato Che vengono giocati molto in solo queue E perché questa patch serve a smuovere un pochino le acque in competitive Fosse per me ci andrei molto più pesante per cambiare l'equilibrio competitivo Ma non è questa la visione di gioco Io amo Terenos Io penso di aver capito A parte i capelli che sono inguardabili Io penso di aver capito l'apo L'apo è furbissimo Io mi ricordo quando tre patch notes fa Ho criticato il fatto che lui ignorasse completamente il competitive Ve lo ricordate? Ora sono tre patch di fila che cita il competitivo E ora addirittura ha cambiato idea da Non importa perché il competitivo Ora ha cambiato idea in Io ci sarei andato giù più duro col competitivo È incredibile È straordinario Cambiare l'equilibrio competitivo Ma non è questa la visione di gioco di Riot E del team di bilanciamento Partiamo dai buff ai campioni L'apo ha L'incredibile Buffato Draven Sto morendo Voglio morire Irl L'apo ha l'incredibile qualità Di essere sempre nel giusto Fa la muta l'apo È incredibile È un serpente 30 HP in più Buff semplice Le facilità ai primi livelli di partita Grande 30 HP così Così Mettiamo che Akali è leggermente più difficile da bullare e outirli Così Aiutiamola ad arrivare al secolo Ti fa un bel 100-0 secco di combo Akali non è un campione che deve venire toccato E non voglio vederle in competitivo Posso dire ragazzi però che in realtà È bella da vedere Akali È carina da vedere Akali È morbida in competitivo vedere i player di Akali Sì Però da giocatore vi dico che giocare contro Akali è una merda E mi dispiace per chi ci gioca contro Perché secondo me è troppo difficile da outplayare un Akali Sì Olimpio rischiosi in alcuni matchup a livello 6 E soffre meno certi matchup iniziali in top lane Non eccessivo ma neanche ignorabile come certi buff del passato Per voi in solo Q Non sottovalutate la sua tancosità e dovreste essere a posto Draven con le sue asce potenziate dalla Q Il problema è che quando giochi contro Akali L'ultima cosa che ti viene in mente Quindi qua spezzo una lancia contro l'apo Ma per modo di dire Cioè quando io sto giocando contro Akali Io Fammi alzare il volume al massimo È già al massimo L'ultima cosa che voglio perdere tempo a pensare è È Attenzione È tancosa Ci manca Già Non la vedi perché c'ha 7000 da R R E Ritorno di E Muro fumogeno La Q ogni mezzo secondo Perché ti dà il base che gli torna l'energia Già devo pensare a 3000 robe E a meccaniche del cazzo Che non sono comuni per così dire Quindi nena coi tilti Devo anche pensare al fatto Eh Devo stare attento perché è anche un botto di HP Vaffanculo A posto Draven con le sue asce potenziate dalla Q Fanno 5 danni extra ad ogni livello Tre buff all'early game di Draven E già è sull'orlo di essere competitivo Con alcuni player che vanno all'MSI Che sanno No no Lapo È già competitivo È che È difficile da giocare a quel livello È già competitivo Draven Questo lo porta ad essere Ancora più importante Come early game Perché Diciamo che Scusate le vedi in pazza Ma ve lo volevo spiegare Quando Giochi Contro un Draven Ha la meccanica diversa Delle asce Quindi è più difficile Per il player Giocarlo rispetto al normale Di carry Per carità È molto più Cioè rischia addirittura Di rovinarti completamente Per la serie Perché ti porta Ad essere esausto Mentalmente Lo so che mi sembra una puttanata Ma è così È più champion da bow 1 Quasi Stupidamente Io Draven in bow 1 Lo giocherei Ma Quello ragazzi Che è veramente Un problema Non solo il fatto Che è stancante come campione Che ha meccanica comunque Leggermente più complessa È il fatto che è monodimensionale Cioè Li devi dare quelle stack Nel momento in cui Ha le stack E Draven vuole prendere la kill Diventa leggibile Dentro la partita Il fatto Che il team Voglia giocare sul Draven E in quel momento lì Ragazzi Diciamo che il team Contro Draven Ha un po' La palla In mano Perché sa già Di determinate Giocate preimpostare Che devono fare Quindi È un po' È un po' così È un po' così Però Guarda Io ve lo dico Secondo me Vedere Draven Comunque in competitivo In un meta Dove Draven è un champion Per me Forse è giunto Effettivamente Il momento Che sia così Perché È vero che È sempre un champion Fastidioso In solo Q Però in competitivo Non è veramente mai Stato hard spammato Tanto da diventare Winning pick Addirittura Da MSI Mondiale E tutte queste cose qua Credo sia giunto il momento Ansama se gioca a Draven Contro gli LCK Prende un cazzo Di nego Che non se lo scordo più Anche se voi direte Come se prende un cazzo Dagli asadici Non lo sente È vero Però È vero Non posso dire niente Questo Lo porta ad essere Ancora più importante Come early game Snowball champion Almeno Per i pro player Per noi Lo è già Per voi in solo Q Giocate più safe Nella fascia tra Il livello 1 e il livello 3 Quando ancora Gli HP scarseggiano È davvero fuori di testa Come buff In quelle fasce No no ma Fate attenti Galio sono stanchi Di vederlo come ancora Debole Decidemi di buffarlo Prepotentemente Aumentando la sua velocità Di movimento Allora È sotto gli occhi È sotto gli occhi di tutti Che vogliono farlo tornare Sembra ragazzi Abbastanza palese Non voglio ora Dire cose strane Ma Dai Galio Cazzo Sono quante patch Che riceve buff Di fila Anche lui Champion che non vediamo Da un po' Galio in competitivo Secondo il mio punto di vista È un bene Perché È un campione divertente Con determinate comp È veramente però Assillante Da giocare contro Perché devi sempre Tenere in mente Io non sono mai un fan in competitivo O di TF Non sono mai un fan in competitivo Di Shen Non sono mai infatti Un fan in competitivo Di quella roba lì Perché ripeto Sono un giocatore E so quanto è tu morale Da giocare Da tenere in mente Io non Io credo che un campione Con determinati Con determinate ulti Che impattano così tanto La mappa Deba Deve essere debole Deve essere debole In competitivo Perché Diventa troppo sbilanciato Sotto il punto di vista Della comunicazione Hai cose in più No E nel momento in cui Hai cose in più Da comunicare Poi ovviamente È più complesso E non credo che Riot Stia tenendo conto Di questa cosa qui Da quando ho visto Broken TF Da quanto sto vedendo A questo punto La voglia loro Di buttare Gallio dentro È vero che da fuori Invece è divertente Vedere Gallio Che magari arriva All'ultimo a salvare Divertente delle comp Camille Gallio Divertente delle Jarmine Divertente delle vibe Blah blah Le combinazioni Che puoi tirare fuori Con l'uccello in mano Chiaro Niente da dire Però Ripeto Basta Cioè basta Cioè ha ricevuto 20.000 Blah Basta Il primo va ad aumentare La capacità di roaming Di Gallio E la sua capacità Di ingaggio In ogni istante Della partita Permettendogli di colpire Più spesso e facilmente Il Town della W Eschivando più facilmente Gli skillshot nemici Il secondo ti va a dare Maggiore capacità Di trade E well clear Nella fascia Tra il livello 1 E il livello 8 Di poco Ma comunque Un valore Sai cosa farei io Nerf a Orianna E nerf a Dazir E nerf a Nico Fine Cambia il meta mid Il metabot è cambiato Poi mi vado magari A giocare Jungle top Nelle prossime pace GG Cambia totalmente Totale Competitivo soprattutto Può fare la differenza Quando devi gestire La posizione Delle ondate di minion E arassare il tuo avversario E reagire a quello Che succede sulla mappa Penso che non smetteranno Di baffarlo Finchè non sarà rotto Sincero Visto che Nessuno Magister Lei è la cosa più bella Dopo le stragi Nel Mediterraneo Grazie da tempo in me Sta regularmente La randa in competitivo Escutendo il PL Quest'anno Dopo le stragi Di Di Aragosta Nel Mediterraneo Che poi Vanno a entrare Nelle nostre tavole E con il burro fuso Ci danno momenti magici Grazie Nico Bench E gli aggressivi Che tornano comodi Anche a noi mortali L'attack speed Da item E rune Ora contribuisce Il 35% in più A velocizzare Il tempo di ricarica Dei pallettoni Del fucile Graves Graves ragazzi L'ho trovato contro Uno degli ultimi game Che ho giocato In solo Q Ha fatto uno V9 Ho bisogno di voi È forte Graves In generale ora Non voglio vedere Però ero In solo Q A diamante 3 Con un Graves Che si è fidato Perché aveva un team Di mostri Capito Però Mi immagino La meccanica di clear Infinita Che ha come champion E quanto scala E mi viene da pensare Che effettivamente Devono comunque stare attenti A un Graves Devo Voglio vedere È anche vero Che comunque un champion Come Graves Non è un campione Che ti dà un kit Facile da eseguire In competitivo Quando lo vai a giocare In giungla Soprattutto Che è un ruolo Che bene o male Ti richiede un attimo Un cc O un gank Per fare un gank potenti Per avere gank potenti E tutto Ti richiede comunque qualcosa Non è facile Non è facile Non è facile con Graves Arrivare Ti ribalgi Che muore il tizio Io voglio dire Che c'è Un problema Di leaning phase In generale Però Come campione Graves L'ho sempre trovato noioso Perché ti viene in giungla E poi cammina via Cioè Viene lì Ti invade Ti kaita Sul campo Ti killa il campo Va via Dasha Farma velocissimo E' quello il problema Di Graves Che poi Col passare Dei livelli Super tankoso C'è un DPS Che ti rompe il cazzo Particolare Graves Fare attenzione E quando spara Un colpo critico Ogni proiettile Scala col critico Del 45% E il lupi del 40% In pratica Fa più danno Un critico Questo spinge Le build a critico In giungla Portandole forse A saltare la Yomu Come primo spike E puntare direttamente Al collector Per procedere poi Su altri oggetti Da critico Come l'infinity edge La bloodthirster I saluti lord dominic Soprattutto questi ultimi Spesso volentieri Vengono presi subito Do Build se non sbaglio Buffata recentemente Quella da critico Giusto? Dopo Il collector Per combinare Penetrazione percentuale E penetrazione flat Qua è da un po' Che Riot lo tiene d'occhio Cercando di evitare Di romperlo Per il competitivo Ma anche quando È stato giocato Da Caps E altri midlaner O supporti Addirittura in Corea Non è stato distruttivo Allora Io credo Che Wei Sia In mezzo Cioè la verità Di Wei Sta nel mezzo Ho visto i game Competiti E mi sono fatto Un'idea Il problema Di questo campione Qui È che Da bilanciato Da bilanciato È broken Per il kit Che ha Da bilanciato È broken E bisogna stare attenti Quindi Perché il campione Deve essere bad Deve essere bad Ragazzi Io sono convinto Di stare qua Perché ha troppa roba Ha troppa roba E troppo forte Sotto il punto di vista Ragazzi di spell Anzi Spaventa Al momento Ripeto Ho visto un Forse Di cambio Di meta Che a lol serve Estremamente specifici Per farlo funzionare Decidono quindi Di buffare Lo scaling AP Della sua passiva Da 30% A 35% Che va a premiare La Rass E la concatenazione Di combo Aiutando molto Nei fight In mid to leg game Soprattutto sulle combo A 4 spell Con la ultimate Anche la palla di fuoco La QQ Viene aumentato Lo scaling AP Da 75% A 80% In modo a premiare La Rass A media bassa distanza Contento che lo baffino Date che è uno dei campioni Che vorrei vedere A ripetizioni Nelle mani dei pro player È un campione Che esprime Talento meccanico Di chiudereo pilota Perché non viene spammato Vi prego Perché sarebbe troppo sbilanciato È troppo sbilanciato Rispetto agli altri campioni Ragazzi Rispondo all'appo Semplicemente così ragazzi Non ha senso il kit Rispetto agli altri champion Vi prego spammate È super divertente A vedere Sì È quello il punto Divertente da vedere Ci sono poche cose Da andare a toccare Per spingerlo meno in competitivo Jarvan ragazzi Sempre anche lì Attenzione Con Gallio È una spada Come campione Build Compe solidissima Sia da blue side blind Follia È un sento della vita attuale Molto comodo Per velocizzare gli clear di giungla E renderlo leggermente Più di impatto Negli scambi Contro altri campioni Questo significa che L'impatto iniziale di Jarvan Quando comincia a combatterlo È più alto Ma si parla di Pochi danni totali effettivi Cioè Nella migliore delle ipotesi Su una frontline Sono 20-30 danni in più Non è preoccupante Ma va comunque Eh ma le comp Che ne so Le puttanate di comp Da blue side Dove Jarvan lo blindi E poi ti arriva il Gallio Jarvan Gallio Rumble Hyper carry Playmaker Perché hai il peeling di Gallio Hai Jarvan frontline È un bel team fight E queste robe qua Gino ha un bel poker Playmaker magari Trash Trash gyms Che trash può giocare Agro e può pilare Gallio che fa peeling Jarvan che fa frontline Che però hanno anche Un bel DPS Il playmaking morbido Di trash Rumble Forte in teamfight Con il resto Cazzo Lì Spettacolo Poi ho sparato L'hyper carry Poi giocare driven Follia Quella roba lì Trash Vabbè fuori meta Mi spiace L'ho sparato il trash Così però Utopistico Pensare ad Però cazzo Trash Spettacolo Non mi aspettavo Di vedere Ricevere buff La velocità di movimento Bonus Quando critta Passa da 10% A 14% Per la gioia Di tutti i fan Di The Fast Un maggiore potenziale Di kiting È comodissimo Per darti Carino Gin Da poco che non lo vediamo Lo scaling AD Sulla Q Passa da 35 65% A 44 74% Ok Un buff che Sembra piccolo Ma così No Non è vero mai No Guarda L'altissima quantità Di AD Che ottiene Gin È tantissimo È tantissimo È tantissimo È più che sufficiente Per dargli maggiore controllo Sull'andata di minion E migliore a Rass Se riesce a colpire un campione Con l'ultimo rimbalzo della granata Il danno base a Q Viene fixato perché non c'è Sentite ma Gin hanno messo 14 Perché c'è il 4 44 74 Perché c'è il 4 44 C'è il 4 Perché c'è il 4 4 inoltre Come dovrebbe essere per Gin Altro campione Che mi rende contento Vederlo baffato Dato che è valido Ma spesso e volentieri Ignorato dai pro player Escludendo quelli Che sono più specializzati In primis Velocizza il suo way clear Nelle prime fasi Non mi piace Kaiza ragazzi In generale Ma perché sono io Non mi piacciono le composizioni Nautilus Kaiza Non mi piace quella roba lì Però anche qui Kaiza So benissimo Che è da vedere So benissimo Che è da vedere È veramente divertente No Quella R Incredibile Che ti va A cambiare A fare il cambio Di posizionamento Straordinario Kaiza in competitivo Follia Stanno spettacolare Stanno baffando i campioni Divertenti in competitivo Mi sa che l'appo ci ha preso L'appo ci ha preso Va ad amplificare il danno AQ Quando la colpisce In un bersaglio isolato E questo Ti ha detto una roba Interessantissima Ciao Demonia Come stai Ciao Ti stai facendo La medicina Molti dei dati Che si hanno su di lei Sono anche distorti Dalla varietà di build 3 secondi in meno Sulla V di Leblanc Particolari che ha E del fatto che La gente non sa giocare Spesso vendere queste build peculiari Leblanc anche lei A sorpresa Riceve un buff E anche particolarmente forte Un aumento del danno Della Q di 5 E una riduzione del cooldown Della sua W Q di 5 Non me ne frega un cazzo Di 3 secondi Al primo rank 2.25 1.50 0.75 Ai successivi La V ragazzi Allora io una volta Mi ricordo Ma era un Era un nabeto ancora Giocavo Leblanc Con max di W Si fa ancora no No E max alla Q Tipo 3 punti in Q Max W Come funziona ora Mi spagliavo anche le combo Che facevo La W R Tipo no Per fare DPS Che max ancora la V Io mi ricordo Quando c'era C'è stato un periodo Dove davano punti alla Q Il danno della Q È relativamente importante Sicuramente aiuta Per barstare in una combo E minimamente Per way clearare Nessuno lo nega Ma la riduzione Cooldown della W È di gran lunga Più importante Questo potenzia Enormemente La sua capacità di snowball Nella fascia tra Il livello 1 E il livello 8 Rendendola più valida Contro Il livello Normemente La sua capacità di snowball Nella fascia tra Il livello 1 E il livello 8 Rendendola Il livello Tra il livello 1 E il livello Più valida contro Campioni Snowball Snowball All'infinito Snowball All'infinito Ragazzi Eroica 18 E da più chance Di arrasso Di way clear Che per un campione Come le blank Incompetitivo Soprattutto Sono fondamentali Sono d'accordo 3 secondi Sulla W E il danno in più Sulla Q Ci hanno preso Anche stavolta Ma non ha sufficienza Decidono di fargli ulteriormente il danno boss Nella Q contro i mostri Olaf devono stare attenti Olaf è un campione che invece è effetto opposto Ma è una cosa mia particolare Non lo voglio vedere Non mi piace Tra top e giungla Dato che funziona ancora top Però la speranza è l'ultima a morire Anche Ryze è una grande Olaf diventerà quel jungle situazionale di merda Della gente magari che viene beatata a prendere il vegar pick O tutta roba strana immobile Senza kiting Magari giochi l'Olaf per rompere il calzo Io stupidamente il secondo me è tipo Olaf Lo gioca Adam Olaf Contando che gioca quello schifo di Garen e di Darius Gioca anche Olaf Eccolo lì Stupidamente i BDS Potrebbero pensare di essere l'unico team Al mondo a poter flexare effettivamente Quel campione lì E dovrebbe avere una certa value come roba Una sorpresa dato che non lo vediamo da tempo in memory in meta Uuuuh Ryze Urielu The Everfrost King Nashor Steel is back Lo nuovo blu Il dio delle rune La leggenda di Runterra Colui che cerca i cristalli di Cortex Bellissimo questo qua Ryze lo voglio Ryze lo voglio assolutamente Voglio vedere Ficker con Ryze Lo rivolgo quell'uomo Bellissimo Bravi qua Silos Ammazzatevi Cooldown della sua W di 2 1.5 1 0.5 secondi dal primo rank in poi E la W rallenta del 50% E non più del 35% Considerato che la W è solitamente l'ultima spell che Ryze va a potenziare Amplificarne il potere sul primo rank e i successivi E il modo migliore per potenziarlo tra il livello 1 e il livello 13 Senza andare a romperlo particolarmente Con un po' di Ability Ace Ryze torna a fare un po' il pianista E tenerti fermo un bel po' in situazioni pericolose La citazione La citazione di Lapo La citazione Lapo lo fa Lo sape Lapo Se in chat Dillo che l'hai fatto apposta Il re Lapo L'abitazione L'ha fatto L'ha fatto Quello si sta ribellando a Rio d'Italia Ryze torna a fare un po' il pianista E tenerti fermo un bel po' in situazioni pericolose Tanta roba Sincero Gli serviva Silas nonostante i tentativi di scorsa patch Non sta brillando in giungla Silas è il più grande errore di questa patch Ma in generale Silas non deve essere giocato in competitivo No È distruttivo per il competitivo Distruttivo È un campione che viene bannato O ti vince le draft È distruttivo Mai 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 In nessun momento Io voglio Silas in competitivo Troppo forte la R Ti annulla le comp Ti cambia completamente le draft Se uno prende Galio E l'altro prende Silas È finita la partita Galio Silas flex Over Sei forte anche in giungla Over Non ha senso ragazzi Eravamo tutti contenti Riot decide che Over Over di default Over Cioè ti cambia troppo ragazzi Un momento di buffare ancora la Saku Così fa il 100% del danno Sui mostri di giungla Errore gravissimo Solo il 70% Sono così felice Adoro Silas jungle La mia famiglia non è tenuta in ostaggio Da Riot Timba vagliata E non c'è nessuna pistola Puntata la mia tempia Dal mio soppalco È tutta una burla raga Non capisco se è reale Potrebbe essere Trash vede la sua armatura aumentare Di 2 punti E la resistenza magica Per livello di 0.20 Tutto una gioca a Trash Sapete cosa faccio adesso ragazzi Voglio essere onesto con voi Faccio cagare Faccio schifo al cazzo Sono inguardabile Tiro comunque Tiro comunque dritto Tiro comunque dritto ragazzi Secco In solo Q Ora l'ultima partita che ho fatto Ne ho perse 4 di fila Ma uno ha fillato E le altre 3 ero 10-0 Quindi è sempre la solita merda Hanno tilto come un lupo mannaro E smatto E poi mi incazzo E vado in game E ne perdo un altro Ma almeno li ho snowballati tutti Vinco perché sono 20.000 volte Più intelligente di chiunque Vinco Perché anche se sbaglio le meccaniche Ti cammino in faccia Nel momento giusto Tiro il base Blablabla No e quindi snobolo Spell non è hito una Non è hito una Ho giocato Trash E mi sono sentito male Il che significa che A livello di Sapete cosa faccio? Da oggi Fino a che non verrò smannato Avrà ben 4.25 Residenza magica in più Non è un buff Particolarmente impattante Secondo me ragazzi È un buff Intelligente Volete sapere perché? Perché è l'unico Modo È l'unico modo Dove puoi andare a buffare Il campione Perché il kit È forte di Trash È fortissimo Ma toccandolo Diventa rotto E Trash Ha mal in cuore Deve Mal in cuore Cioè Lo voglio vedere giocato ragazzi Trash È il support Trash è il champion Che ispira la gente A giocare il ruolo Trash Deve essere meta È troppo difficile Come campione Deve essere assolutamente In me Ma Non riesco a giocare Contro Trash E bruca Giocalo In me Invece di giocare Gianna Brutti Girl E boy girl Chi O donna O uomo Non cambia Gioca Trash In me Ma Gianna Qui è bella La meteorina Con l'ombrellino Hai figa De tu mare L'armatura Almeno lo allinea Al resto dei supporti Da engage A livello statistico Senza romperlo Dato che ottiene armatura Dalle anime E quello dovrebbero Renderlo tankoso La resistenza magica È praticamente ignorabile Come va Finché Sì È ignorabile Però È l'unica roba Che puoi fare Esiste Nautilus Con la sua R Purtroppo Altri campioni a grab Non sono altrettanto validi E questo purtroppo Un po' mi dispiace Per Trash Prima di passare ai nerf Vi ricordo di iscrivervi Al canale E attivare le notizie Azzir viene nerfato Da 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 Let's go Azzir nerf Din 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 Il tabellone luminoso Dice Aziz Luquebabar Is out Riducono la sua rigenerazione Vita in fasi corsia Da 5 a 3.5 E riducono il danno A base da W Di 2,4,6,8 danni Dal secondo ranking poi Non è un astronomico nerf Quello sul danno Ma aiuta a ridurre La sua capacità È ad alto rischio Per le spell E hai poco reward In generale È molto complicato E facilmente Parole sante Sivanapok Parole sante Però in solo Q Trovi il triplo Delle opportunità Trovi le robe Puoi permetterti Di sbagliare La gente non è forte Vi è noccata Incompetitivo Perché si è sempre preferito Naudilus Stiamo senza sapere come Né quando Né da dove Stiamo direttamente Senza problemi Né orgoglio Così ti amo Perché non so amare Altrimenti Grazie Yakuza Bannate Yakuza Perché Trash con gli anni I player di Trash Sapete qual è La cosa bella Del campione Che Mentre Nautilus O altri champion Hanno le spell Istantanee La E di Leona La Q di Nautilus Quale robe lì Trash C'è l'effetto All'animazione No E con gli anni I giocatori Contro Trash Sono migliorati Sono migliorati No con gli anni E Non fanno più Gli stessi patting Ad alto livello Gli stessi patting Di Doge Quindi la gente Ti camminerà via dritta Come in Silver La gente a Master Ti cammina via dritta Non fa più Lo step indietro Non fa più Lo step indietro E tu dirai Cazzo ma è bronzo No Perché se lo fai a Master Non sei bronzo In realtà lì Si può essere Anche scarso in culo Perché ormai si Però Il doggiare dritto E non steppare back Cosa che farebbe Chiunque fino a Diamond 2 Per esempio Andare via dritto È quella L'outplay meccanica Quindi la cosa bella Di Trash È che La gente È anche Cioè Con gli anni Ha masterato Il giocarci contro E lo rende E questo lo rende Il campione Più meccanico E il support Più meccanico Di sempre Più complesso Da giocare E il fatto Che sia complesso Difficile Che devi sempre Essere nella testa Dell'avversario Quando tiri le spell Perché ripeto Non è istantanea Quindi quando tu fai Una spell Istantanea Il tizio è proprio Istinto dell'essere Umano Fare lo steppino Oppure Sei forte Lo freghi È veramente Low rewarding Come hai detto tu Perché è proprio Complesso andare A hocare la gente Però Rispetto a giocare Campioni facili Nautilus con la R Che ti arriva per forza Perché ora Tutti i campioni Hanno mobility Broken in culo Quindi devi Premere la R Dove arrivi per forza Sul target Stesso motivo Per cui Vai era piccata Non perché fosse Turbo broken Ma perché è una R Che non miss Tutte queste cose qua Tutte queste piccolezze Qui no Trash Per me ragazzi È un campione Che ogni player Deve masterare Ogni support Deve masterare Perché è quello Il vero gameplay È quello Giocare support È quello Quando tu masteri Trash Tu hai Dentro di te Veramente Hai un'anima Da guerriero Ormai perché Ripeto Ancora di più Se l'hai masterato Negli ultimi anni Quando faceva Completamente schifo Ma in sé ragazzi Trash rappresenta L'anima di ogni Support reale Che si è persa Negli anni Tra le nuvolette E gli unicorni rosa Della weebness Del kpop Inutile Con enchanter slave Eagirl Playstyle player Credo sia quello Ragazzi Il problema Spero ragazzi Di vedere Veramente Un altro buff A trash Perché io credo Già con questo buff Di vederlo Più spesso Torna a distruggere Presto Grazie Speriamo Speriamo Verso agosto Anche se vengo Sbanato agosto Non tornerò a giocare A liga D'agosto Perché C'è black myth Wukong E altre robe Che voglio giocare A settembre 100% Però in caso avviso E quindi questo Ragazzi Per quanto riguarda Team Come dio Con power Quando mi sbaneranno Tornerò a parlarci Per dei progetti Però voglio portare Un altro progetto Stavolta Perché non voglio Il team Voglio proprio Un torneo Voglio torneo Di streamer italiani Lo voglio E voglio farlo diventare Torneo ufficiale Con Eumaster Quindi voglio Parlarci di questo Voglio investitori Voglio gente Con le palle dietro Che è decisa Di investire Per la community E non per zero ritorno Perché questo Non è mai stato fatto In Italia Briar deve morire Champion di merda Ma la parte più importante È la riduzione Della rigenerazione vita Dato che Azir Gioca con piede lesto O presa dell'immortale Ridurre quanto si cura Passivamente Lo rende Molto più fragile In fase di corsia E meno male Aggiungerei Perché è troppo BCS Breeze Championship Series Che ne pensate BCS come nome Un po' facile scalare Con Azir Briar vede una serie Di piccoli nerf Per ridurre L'impatto allo elo L'unico change Letteralmente fatto Per la sua Q I suoi HP per livello Scendono di 5 Che significa Un totale di 85 HP In meno Al livello 18 Questo la rende Leggermente più fragile Nei livelli tra il 13 E il 18 Quando è in svantaggio Di oggetti Quindi molto situazionale Come nerf Il range della Q Viene aumentato Da 450 a 475 In modo da raggiungere Più facilmente La sua preda Anche se il range È insignificante Ma per questo minuscolo Buff perde Il 4,8, 12, 15% Attack speed Dal 6 Per questo guarda Io Briar Spero sparisca Dal Ligo Flaming Il quinto rank Rendendola più debole Ad ogni livello Dopo il livello 3 Reducendole il jungle clear La capacità di combattimento Ma perché non ci so Giocare contro probabilmente Limitandola enormemente In molti trade Dovrebbe essere Sufficiente Per tenere la bada Soprattutto quando Decide optare Per Eclissi Come primo oggetto Però Nulla di gara Volevo dirle Soprattutto che La sua regione Più Bella che ci sia Non smetta di tiltare Parole forti Da parte di Idol del cert 8 a 5 HP Andiamoci chiaro Zack è uno dei campioni Con più sustain naturale Idol del desert E tu mi stai dicendo Che questo figlio Di puttana Aveva il quinto valore Di altra Gen più alto Del gioco All'Iber Che è successo All'appo Cosa ho appena sentito Cosa ha detto Nel video L'appo L'appo Non te lo monetizzano Il video Stai buono L'appo Ti tolgono i soldi Dal E tu mi stai dicendo Che questo figlio Di puttana Aveva il quinto valore Di altra Gen più alto Del gioco Briar rimane solo Per i piedi Era triggerato Verso Briar Paolo Era triggerato Briar rimane solo Per i piedi Io ragazzi Vi ricordate Ma è uscito Veramente Vi ricordate La splash art Quella con i piedi Di Briar Che era Quei piedini così Io ora non mi ricordo Ma c'è ancora In giro È ancora lì Nonno Grazie del ride Ah è per Zack Ah ok È ancora lì Quella splash art Mi è ignoranza Non saperlo Ma porco canta E ci creo che I nerli poteva farli Imbecille top E sopravvivere Con un chalance Questo dovrebbe Renderlo più gestibile Nei primi cinque livelli Fin quando la passiva E il suo inventario Non lo rendono tankoso Con la rigenerazione In base alla vita Mancante È impazzito Chiude la lista Di nerf Zeri Che viene resa Più fragile Di 30 HP Rendendola facile Morisce sto campione Broken unskillet Patetico Per fucking Triarder Unskillet Schifosi Con incenter Duo Cuer Abuser McDonald Employer Eccendente Cassier Per citare Vecchie Vecchie Frasi Potenzialmente Permettendo ad alcune lane Da all in Di ucciderla facilmente Se giocano correttamente Riescono a ingaggiarla Sincero Mi sembra anche poco Per quello che sto a bominio In grado di fare Che sia competitivo Su Bravo Ma Tanto sinceri Pro player Non si fanno far scalare I campioni in late game E giocare safe Giusto? Bravo Bravo Te lo dico in francese Bravo Arriviamo agli aggiustamenti Che tilteranno Un sacco di persone Perché? Il primo è su Mordecaiser Grazie al cielo Mordecaiser Che vede Tre cambiamenti Una riduzione Nel cooldown Della Q Un secondo Poi 0.75 E poi 0.5 Mordecaiser Q ridotta Un secondo Dai La Q Un spell principale Oh Dai Carina ragazzi Buona Finalmente Riot Mi sembra aver trovato Posso dire una cosa? Posso dire una roba? E Se Se sbaglio Ragazzi Sono pronto a dire Che sono un fallito Di merda Riot Mi sembra Veramente Aver capito Enormemente Nella fascia Tra il livello Come funzionano le pace 1 e il livello 9 Una riduzione Nel danno Della aid Brava Riot Non l'ho mai detto Brava Riot E' Ignorabile Ok Ti riduce un pochino Il potenziale 9 e un secondo Damage Un secondo Damage Dato che puoi tirare Più Il grosso cambiamento Però è la ultima Ordecaiser Che non può più essere Cancellata Dalla fascia D'argento vivo O dalle arance Di gameplay Ora Ragazzi Siamo davanti Alla più grande Puttanata Nella storia Siamo davanti Alla più grande Stronzata Che io abbia mai Sentito In vita mia Broken in culo Giocate Mordecaiser Giocate Mordecaiser Rotto in culo Rotto A tutti Brava Anzi posso dire Brava Riot Brava Brava Riot in chat Rotto Mi hanno buttato fuori Dalla chiesa Sai spiegare come mai L'ultima volta Che ho baciato La mia ragazza Distesa Mi hanno buttato fuori Dalla chiesa Era morta Per caso Oh mio Dio Cosa ho sbroccato Sono impazzito Lapo Questa roba qui È broken E Morde verrà giocato Possiamo stringerci la mano Ragioniamo Mordecaiser Durante la ulti Sì Ti porta con sé Può combatterti In 1v1 Ma almeno Ti dà la chance Di poterti muovere E reagire A come combatte No Non è quello Allora Ti dà lasciando il fatto Che già la queen S'è Sarebbe stato un buff In grado di Poter Effettivamente Mettere in meta Il campione Nel senso che Da avere Proprio come addirittura Le imbuli A determinati matchup Il fatto che esiste Il campione in sé Ti porta A un cambiamento Di Modo di fightare Ti toglie Il campione più forte Dai coglioni Metti che il tuo team Vi spiego qual è il punto Metti che A caso Mettiamo a caso C'è Mordecaiser Ma questo è sempre stato così Il team di Mordecaiser Contro c'è un tizio fidato Un tizio Arrivi in un team fight Su un obiettivo Quello che ti pare Mordecaiser Erra sul tizio È vero Il tizio è obbligato A fightare Mordecaiser Ma anche Mordecaiser È obbligato A fare quello che vuole Per andare via Per resistere Per rompere il cazzo Sta lì a non fare un cazzo Mentre il tuo team Si gira E gira Il cazzo di team fight Perché tanto Il tizio non può più uscire A dare una mano A sua squadra E vaffanculo E Mordecaiser È quello il problema L'impatto Che può avere Quel campione Del motivo per cui Non è mai stato Meta effettivo È che la sua ulti Ti può Far cambeccare i game In base al fatto Che i gold Sono messi di più Su un cazzo di target Rispetto a un altro Contando anche il fatto Che un campione Come Mordecaiser Viene sempre preso Nei matchup vincenti Nessuno va a blimpiccare Mordecaiser Che magari Si beccano il counter Pick di merda Però secondo me Ogni volta Che da red side Qualcuno vuole provare A cisare in qualche modo E riesce a mettere Mordecaiser In quel cazzo di game Quel team vince Sicuro al 100% Puoi caietarlo Saltare muri Flesciare Gostare Sopravvivere Finché non esci dalla urla Sulla carta L'unica cosa L'unica cosa Però che posso dirvi Che tecnicamente È un bene È che in realtà È che in realtà La gente Di ah c'è Mordecaiser Devo fare Devo fare Il cazzo di Quicksilver No Perché ora non può Quindi almeno Non butti gold Nell'ite I temi Ti fai Quello che ti pare Dici almeno Così Così risparmi O quel cazzo che è Lo capisco Lo capisco In quel caso In quel senso Risparmi Ti vai a fare Un'altra bid Se dobbiamo parlare così Ti dico Vabbè ok Overall Però secondo me In generale Ragazzi Già questo buff Ti va ad aiutare Molto Mordecaiser In fase di Corsia E nell'elen vincente Ti butta l'altro Sotto torre E la R in generale Ragazzi È un campione Che non vuoi Mai Sicura Al cento per cento Mi ci gioco Quello che volete Che verrà giocato Mordecaiser Mordecaiser verrà giocato Quando sarà possibile Non Assolutamente Non spam Giocato Mai Spam giocato Mordecaiser Mai Non penso sia così forte Da vederlo Blind piccato Sono convinto Che molti team Proveranno un cheese Da red side Da red Proveranno un cheese Con last week Mordecaiser Ci provo Lo butto La spar Ma comunque Puoi sopravvivere Non è come una ultima Alzar O Warwick O Skarner Dove sei una vittima Che non può reagire In alcun modo e forma Anzi Sincero Il fatto che adesso La gente non dovrà Buildare in assoluto Contro Mordecaiser Il cento per cento De volte E ridurre il valore Degli slow E' importantissimo Potersi muovere Più velocemente E' importante Contro Mordecaiser Qualsiasi La classe di gioco Che stai giocando Arriva un altro Aggiustamento per Skarner Perché nonostante L'hotfix Che gli hanno fatto Per farlo giocare In giungla E non in top lane La gente continua A giocarlo in top lane Maxando la W E usando la cometa Sì Seriamente Per rimediare Riot riduce il tempo Di sollevamento Del masso con la Q E meno male Alleluia Aumenta il danno base Riduce il costo in mana E allora è buff La durata del masso Così da renderlo Meno macchinoso Ecco Nerfano ancora la W Aumentando il costo in mana E riducendo il danno La W Di 10, 15, 20 10, 15, 30 danni Cancellando la sua build Opprimenti in top lane Ok O almeno così sperano Fortunatamente ragazzi Non ho giocato In sto periodo Skarner è veramente Così forte Io ho visto Solo uno Skarner E quello Skarner che ho trovato Me l'ha rannata down Ciro dice Che fa cagare Vabbè Ciro Ciro Sencia Skarner adora E' anche divertente Da giocare Mi sto divertendo un sacco Ma ha tanti modi Per essere gestito Soprattutto sulla sua Mi vorrà un po' di lavoro Per renderlo funzionale Ed efficace Ho recuperato l'inizio Di Sifu su YouTube Ho visto Ha scelto PG femminile Come smacco Ma penso Che lo smacco maggiore Sia essere ucciso Dal magister Grazie Dottor Strange Dei 16 Ho iniziato Un'altra run Di Sifu Però mi è arrivato Il joystick Ieri sera Ma io ieri Stavo una merda Incredibile Ho iniziato un'altra run Riprovando un attimo Determinate cose Ho iniziato col personaggio uomo E prendo comunque Un cazzo infinito Spoiler Non sarà presente la messa Chiude la patch preview Un aumento Di Skarner Ah Danni del Baron Che non viene indicato quanto Per renderlo minimamente Più minaccioso E c'è anche una modifica Ai Void Grabs Che ora spawnano A 6 minuti E non a 5 Ma ti danno più danno puro Sulle strutture Per ogni carica Si passa da 6 danni base A 8 danni base Per carica In modo da Amplificare Valore Quando vengono Quisati Più Void Grabs Inoltre Ne basta uccidere 4 per generare Minion aggiuntivo Quando colpisci la torre Te ne servono sempre 6 Se ne vuoi 2 Questo cambia Mentre prima 5 Sul tempo di spawn Invalida molte Delle strategie attuali Che riguardano Il jungler E ma Adesso però Te ne crea altre Perché basta farne 4 Per farti spawnare la roba Prima dovevi farne 5 Giusto? Lo sto confondendo Porto attorno a questo obiettivo Spesso i jungler Prendevano 1 3 No era 5 Vecchio Sicuro al 100% 1 Massimo 2 Void Grab Per campo Se avevi tempo Ne prendevi 2 O 3 Ma non sempre Sapete perché? Perché non era necessario Conquistarne i più Negavi la chance Di ottenere i minion aggiuntivi E ottenevi comunque Ora te ne spona 1 a 4 1 a 5 E 2 a 6 Con questa modifica Devi prenderne almeno 3 Per negare il buffo Alla squadra avversaria Esatto Ne devi prendere 3 Per toglierlo Perché Mentre prima Te ne bastava togliere Ne toglievi 2 Così l'altro Arrivava 4 E non aveva niente Ora se un tizio Fa 2 Void E poi se ne va Perché non vuole Magari perdere troppo tempo Se fa i primi 3 Poi Gli ne basta contestare 1 Mentre l'altro È obbligato a essere lì È una meccanica Che tecnicamente Mi piace Perché ti crea Delle situazioni Un po' più forzate Che però Ti va A molto A impattare Di più In draft Su chi riesce Ad avere i counterpick In topside E in mid Giusto per avere i matchup Che ti permettono Di arrivare A quei campi Devono stare molto attenti Con i Voidgrab Perché appunto Devono ricordare Che è il redside Che di solito C'ha i matchup vincenti Quindi se regali un campo Se tu regali un campo Almeno che non vai da blue side E non rendi broken Un Renekton Un Jace Che puoi blimpicare top E ricevendo un counterpick E così così Devi stare molto attento Al meta Perché se non hai niente in meta In grado di rispondere In grado di rispondere Da blue side Rischi che sia Completamente un campo Da topside E da redside E se È troppo forte È troppo sbilanciato Perché comunque Vogliamo ricordare Ragazzi che Redside Tu hai Le lane counterpick Se vuoi Se vuoi Tu hai Sia mid che top Vincenti Se draft in un determinato modo Sempre Sempre Non c'è modo Non c'è modo Di non avere Mid e top Senza prior Almeno che Non vuoi fare una comp Che magari funziona meglio Con un altro campione Che però non è countermatch E bla 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 Però se uno vuole prendere Counterpick puri Senza fare niente Con la comp Quindi con una comp Che fa schifo Ma con i counterpick puri Tu puoi sempre farlo Dall'airside Però ragazzi Bisogna Bisogna valutare Almeno che Non so A meno che l'altro In realtà Non ti lasci un counterpick Da un'altra parte Perché vuole piccare Mid laner Quarta quinta rotation O top laner Quarta quinta rotation E tu picchi L'altra roba Ok per carità Ma in quel caso Hai lasciato fuori Altre counter lane Che c'è anche Un jungle matchup Che poi ti va a rendere Quel matchup Che tu hai skill matchup Te lo rende winning Comunque alla fine Il jungle win in matchup Quindi vabbè È molto particolare Ripeto Fare molta attenzione A questo campo Quando il redside È quasi draft favorite Il che modifica La quantità di tempo Invece da parte del jungle Su questo campo Che almeno due Se ne deve prendere Se ne prende tre Sarebbe l'ideale Per quanto riguarda I supporti Spesso si spostavano Su quadrante superiore Non credo E se a questo è il caso Ragazzi Non credo che comunque Due stack Ti vada a cambiare Effettivamente Però sapere Che te ne bastano quattro Sei un po' tumorale Dato che Poteva coincidere Con uno dei timer Di recall dei supporti Che prima dell'introduzione Dei void grabs Usavano il recall Poi andavano in roaming Mid lane Ma attualmente Cosa fanno Recallano E vanno invece A contribuire A prendere il controllo Della zona di void grab Magari gankano top Magari gankano mid Magari cacano il cazzo Ma non è qualcosa Che viene fatto sempre Da ogni singolo supporto Alcuni supporti Potevano farlo Lo spostamento del timer Dispone a 6 minuti E non più a 5 Cambia le finestre Intelligente Sia del jungler Che del supporto Di contribuire A conquistare questo campo E di come vanno A impattare la mappa Successivamente Sono piccoli cambiamenti Che hanno Ora io non so I patting di clear Di quando risponano Ora tu a 3 minuti Allora 3 minuti Fai il full A 3 minuti e 10 Sei al crab 3 minuti e 30 Sei al crab Poi recolli Ti respawno al campo Quindi al secondo clear Tu finisci il secondo clear Che ti spawnano Che ti spawnano i 3 Delle grosse conseguenze Una patch totalmente Ed è già in spawning In spawning time Del terzo Non so se questa roba qua Faciliti il compito Di alcuni Dei fast clear jungler Non ne ho idea In realtà competitivo E si sente Molti di questi Sono cambiamenti Che la maggior parte di noi Manco noterà Ma i pro player Si accorgeranno Col tempo probabilmente Di quanto alcuni Di questi cambiamenti Potenziano certi campioni Questo è quello Che sto pensando anch'io Che sono cambiamenti Che ti vanno A dare E quello che ha detto Lapo stavolta Allora è stupido Nel dire Si accorgeranno Col tempo Però lì parlava In realtà Penso della community In generale Quindi ci sta Perché i pro player Se ne accorgono subito Questa roba qua Perché la prima cosa A cui vai a pensare È proprio la prima L'unica cosa In cui Quando io ho letto Sei minuti La prima cosa Che ho pensato È al clearing Dei jungler E a quali jungler Sono migliori Questa roba qua E il fatto anche Dei movimenti Del support È la prima roba Che mi è venuta in mente Signore Sono sicuro Sono sicuro Che la community Non è venuta in mente Questo Però Overall Vedo comunque Un redside Leggermente favorito Per ottenere Questo tipo Di Buff Diciamo così Quindi devono stare attenti Perché a sto punto Avrei tenuto Il buff Invariato Nel senso Non ha senso Andare a Probabilmente Perché riesci sempre A tenerlo Se vuoi farlo Carino Ragazzi Carino Mi è piaciuta La pace Errorissimo Mordekaiser Errorissimo Silas